ciao ragazzi rieccoci finalmente sono ritornato dalle vacanze ed era ora che che non vedevo più questo questo bel posto e la mia camera ovviamente oggi ho deciso di dare un voto al mercato della juventus se voglio essere molto generoso gli do un 5 a parte che sono un professionista a livello juventino ragazzi allora certo con i giovani ceduti in prestito non è così e che così la juve teneva teneva i giocatori non da juventus e che non avevano la fame di vittorie poi locatelli l'hanno comprato che per me è un buonissimo giocatore certo alcuni che dicevano ci serviva un altro centrocampista per me pianic è solo buono a tirare le punizioni che in spagna dicevano è stato il peggior acquisto della liga io non lo non avrei rivoluto pianic e questo è un peso tolto poi vizel già che dovevano prenderlo cinque anni fa poi jataren è un giovane promettente di 19 anni e poi l'hanno girato in prestito subito in prestito alla sampedoria ma vedete le cavolate gli errori poi la gestione di ronaldo è stata una scelta del portoghese e la società l'ha contentata dove io ho ringraziato con con onore il campione portoghese e poi è venuto ken al suo posto per sostituire ronaldo è stato solo l'unica via per un altro attaccante poi se ne parlava di cardi che cosa poteva fare la juventus agli ultimi giorni del mercato a cinque quattro giorni alla fine niente doveva fare solo solo su mesi che ne dovevano mirare e spero che faccia bene quel ragazzo uguale della mia età poi forse non riesco più a pensare hanno preso anche caio jorghi e si è subito infortunato il povero ragazzo che loro dicono faranno la fine di gabi gol tanto la juventus ha pagato pochissimo costava solo un milione e mezzo o due milioni il calciatore prima deve conoscere il campionato italiano caio jorghi l'ho detto quello che ho detto nella stagione della juventus in quest'anno io ho detto quest'anno non vinciamo niente quest'anno lo scudetto non è roba nostra dobbiamo stare pure attenti dobbiamo stare pure attenti per i primi quattro posti che io ho detto quest'anno sarà molto ma molto dura per la juventus arrivare tra i primi quattro che dicevano tutte le squadre si sono rinforzate questo è vero la società juventus dicevano che è mediocre e non possiamo farci nulla purtroppo noi tifosi veri juventini dobbiamo sostenere per sempre la vecchia signora questo è l'unico modo e che dire ragazzi io ho dato 5 per la mia generosità al mercato della juventus perché sono molto buono con la vecchia signora ragazzi spero che il mio video vi è piaciuto lasciate subito un like al video commentate qua sotto iscrizione al mio canale se siete nuovi se siete già iscritti cliccate subito la campanella per non perdervi altri miei prossimi video che riusciranno seguitemi sia su facebook e anche su instagram ci vediamo molto presto per i prossimi video e sempre fino alla fine forza juventus alla prossima